Amuleti Indossare un talismano è di certo molto umano Può sembrare forse infondato, ma per me è ben motivato Una pietra, un amuleto, anche un ciondolo di scritto Sono fonte di arditezza quando domina l'incertezza Io di norma son per la ragione, ma subia, è veniale a bisognar di un poco di magia